non andiamo cd ci si è più bello e ci ci sono tre di c è una prescora ma il cazzo dici che sono quattro ci dirò è in grado si è scicata si è fattuto la chile amici ci stanno 5 amici su c2 attenti sono sparato già un periodo si però 2 di prima ho fatto 8 che le sentiamo di mai 9 chi le scuole difende però che si va a perdere ma lo dicono che siamo subito vai dalla città wow grazie per le granate come sole almeno rispetto verso sopra provo cazzo ma non su una canale sono lo sponano a franculo con l'emg 40 uno sta uno sta vicino a cazzo ok guardatevi se vi dovete guardare Sì, vieni qua, vieni qua, eh, aspetta, eh, ok, ho compito, oh, ucciso, headshot, oh no, mamma mia che precisione Sì, mi aspetta, oi srei altru sito, e no, eserte, eh, eserte, dormere sesso in mente. perfetta perfetto dove andiamo scusano che sinceramente è meglio mettere l'audio di fuoco alla macchina ma vedi quella che ti fa arrivare l'rpm più alto guarda la colla di me dice volevo assaltarmi assaltato troppo presto mi è salito sulla macchina e morto abbiamo solo i parali c'è l'apc attendi non c'è più nice shot come ti chiamano ah ragus hai visto hanno cambiato un po di cose alle mappe ma si ho visto alcune cose poi la cosa dei dei degli uniformi un sovietico mi ha fatto un jump è bianchissimo grazie a tutti